Dopo l'incontro con Raul e Mirko Casadei a Gatteo Mare, ieri sera abbiamo fatto un salto alla festa della Lega per goderci un po' di liscio. Che l'orchestra Casadei oggi non fa più liscio, ecco, chi lo dice anche stavolta è uno sfigato, quindi io ci tengo il fatto di portare avanti la mia musica, la nostra musica, quella della nostra terra, quindi è chiaro che ci sono anche le nuove canzoni, ci sono le nuove cose, ma la nostra musica, la nostra tradizione prima di tutto è sempre qui nel cuore, quindi chi dice questo punto non è ben aggiornato, non è mai venuto a vedere un nostro spettacolo. Grazie a tutti!